Grazie innanzitutto perché è un format interessante, agile e che permette di vedere cose molto diverse tra loro. Peraltro diverso anche dal tema della sharing economy per come ce lo immaginiamo, però almeno due di queste esperienze sono abbastanza lontane da tutto il dibattito sulla sharing economy. Sono un po' di tipo sharing economy antelittera, me lo butto per te. No, 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 butto per te per modo di dire. Però ecco è peculiare, è stato già detto che in realtà da quello che è stato descritto in maniera sintetica non sembra che ci siano, siano stati affrontati particolari problemi con la pubblica amministrazione. Ad esempio ho sentito dire che in realtà la normativa esisteva, si trattava solo semplicemente di implementarla, quindi eventualmente il problema era avere diciamo persone nella pubblica amministrazione che fossero attente al fenomeno, alla problematica e alle esigenze che venivano richieste. Questo perché molto spesso anche oggi nel dibattito che c'è stato oggi nel panel precedente si tende a cercare di dare una risposta alle nuove esigenze con nuova normativa. A volte forse è anche il... c'è bisogno del contrario, magari sfoltire un po' di normativa preesistente oppure andare a ripescare norme o regolamentazione anche a livello diciamo non nazionale ma anche a volte regionale piuttosto che locale, che abilitano magari dei fenomeni che ritornano di attualità e che magari avevano già una storia. Quello che può fare a mio avviso la pubblica amministrazione, perché poi quando si parla di sharing economy in generale invece si pensa sempre a quelle realtà molto legate all'ambito diciamo digitale, dove grazie anche ad investimenti in tecnologia e a piattaforme, quell'economia di piattaforma che ha permesso ad alcune realtà di raggiungere una massa critica e che sono completamente diverse da queste cose che abbiamo visto fino adesso. Forse la pubblica amministrazione a livello locale può, una cosa che mi viene in mente ma mi piacerebbe poi magari discutere con ognuno di voi che ha presentato le varie iniziative, potrebbe aiutare sicuramente a raggiungere la densità e la massa critica a livello locale, perché queste iniziative, ad esempio penso a quella della rete wifi, immagino che abbia necessità per poter funzionare di avere una densità nel quartiere, una densità sufficiente per poter funzionare, quindi nel momento in cui a livello di informazione o a livello di promozione l'ente locale, che può essere il comune o la realtà locale, promuove questa cosa, può far nascere la massa critica. Sicuramente la massa critica è un elemento importante in tutti i fenomeni di sharing economy, non possiamo dimenticarcela. Ovviamente il primo esempio invece mi sembra molto interessante, viene da una tradizione molto, non so da quando nasce questa cosa, ma molto lontana e molto locale, è interessante che siate riusciti a trasportarlo in altre regioni magari con altre esperienze, quindi questo significa che ci può essere anche una contaminazione con altre realtà nel momento in cui l'idea è vincente e anche lì mi sembra di capire che l'elemento pubblica amministrazione non abbia costituito un gran che un freno, sicuramente c'è bisogno di oliare. L'ultimo elemento mi interessa molto, ma magari poi ti chiederò di più, è sicuramente una cosa che ci fa capire che la realtà della, quella che chiamiamo sharing economy, in realtà viene da tradizioni, collaborazione, condivisione e di una cosa che è molto umana e che adesso forse sta ritornando in forme diverse di, diciamo, è una cosa che ritorna anche in un momento di crisi, no? Questo dobbiamo anche dircelo perché in un momento di crisi anche l'economia della condivisione, quell'economia che poi solitamente non viene registrata nel prodotto interno lordo, ritorna di grande importanza. Quindi chiudo, anche perché vedo che sono diventato rosso, il rischio in questi casi, ma poi sulla legge ci ritorniamo, è di, sicuramente c'è bisogno di andare a regolamentare, ma stare attenti a non sovraregolamentare attività comunque che nascono da comunità in maniera spontanea e che hanno una loro tradizione, delle regole anche non scritte, che permettono di sopravvivere e di andare avanti sul loro solco. Visto che Veronica è andata un po' sulla legge, volevo approfittare anche per fare un paio di commenti dal nostro punto di vista. Noi avevamo chiesto che venisse emanata una normativa sulla sharing economy, quindi abbiamo salutato favorevolmente la presentazione del disegno di legge, da come la vedevamo noi l'urgenza era quella di promuovere la sharing economy. Diciamo che noi, il fenomeno della sharing economy ci ha messo anche in discussione noi come organizzazione, perché comunque nella nostra tradizione abbiamo sempre avuto un'attività abbastanza top down verso il consumatore, che è il nostro socio, però abbiamo scoperto che comunque i nuovi consumatori hanno un approccio diverso al consumo e io direi che poi la parola consumo è riduttiva rispetto a tutto quello di cui stiamo parlando, però diciamo anche nella normativa si definisce utente che operatore e poi utente fruitore. Quindi questo ci mette in discussione perché tutta la normativa sulla tutela del consumatore e la tradizione proprio consumerista vede il consumatore come soggetto debole del mercato che ha bisogno di essere tutelato. Questo è il principio cardine, il codice del consumo, il principio cardine è tutta la normativa europea sulla tutela del consumatore. Qui invece cosa sta succedendo? Che il consumatore in alcuni casi, o l'utente o il cittadino, non so come lo vogliamo, il prosumer, diventa anche produttore di servizi e condivide con altri peer come lui, o beni e servizi o parte del suo tempo. Quindi a questo punto si sposta al centro di una nuova tipologia di mercato. Questo ovviamente mette in discussione noi come organizzazione dei consumatori e quindi una delle rivendicazioni nostre, noi non chiediamo più solo la tutela del consumatore ma chiediamo che siano riconosciuti i suoi interessi ad essere parte attiva del mercato. Quindi in questo senso io penso c'è già diciamo nella proposta di legge ma io rafforzerei in capo all'utente che sia operatore o fruitore il diritto di beneficiare appieno dell'innovazione tecnologica. Perché se in tutto questo sistema che è previsto nella normativa, nel disegno di legge, non mettiamo un volano che permetta attraverso la titolarità di diritti a smontare anche a volte o ritrosie della pubblica amministrazione o a volte norme di settore che sono obsolete rispetto a questi nuovi paradigmi, non riusciamo a produrre una norma che poi possa durare nel tempo. Io penso che dovremmo riconoscere un diritto in capo a qualcuno molto esplicitamente. Chiaramente faccio un gioco di parte perché rappresento i consumatori, però qui sono consumatori un po' particolari, diciamo che sono, io li definirei più cittadini o comunque ancora non abbiamo trovato una definizione, si chiama prosumer ma io direi che è importante riconoscere un ruolo attivo in modo che la norma possa durare nel tempo. Perché è evidente, me l'ha detto Veronica prima, che qui c'è una norma generale che poi dovrà avere, poi nell'articolo 6 è previsto, anche una, si parla di norma annuale che va a rimuovere ostacoli. Ecco, io questa la metterei come articolo 1, perché l'altro rischio invece, un punto d'attenzione sulla norma, è quello, e che è stato commentato così anche da molte start-up, immagino anche da quelle che siano intervenute prima, lo vedono come un punto d'attenzione, quello di non rischiare di burocratizzare la sharing economy in Italia, cioè l'articolo 3 e l'articolo 4 che prevede in capo all'antitrust un registro delle iniziative di sharing economy. Io penso che ci sia una parte buona in questo, peraltro noi, diciamo, penso che la scelta dell'antitrust sia la migliore come organo al quale dare questa competenza, sia perché ha in sé le competenze sulla tutela del consumatore, ma anche sulla concorrenza, perché c'è tutto un tema sulla concorrenza, delle piattaforme che riescono ad avere una massa critica forte. Quello che direi è non mettere un'obbligatorietà, ma una facoltà di iscriversi a questo registro e legarla ad incentivi, che possono essere incentivi fiscali, incentivi di ogni tipo, cioè voglio dire, devono esserci leve di incentivi, ho chiuso, scusate, incentivi e facoltatività sull'iscrizione al registro.